Dopo lo straordinario tour in Vietnam e Malesia, dove Luca e Angela sono stati invitati dai consolati e le ambasciate italiane per rappresentare il nostro paese durante la settimana della lingua italiana nel mondo, l'evento culturale organizzato dall'Accademia della Crusca in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, gli artisti saranno nuovamente ospiti all'estero con lo sciolavoce nel corpo. Forti del successo ottenuto anche a Stavanger all'evento organizzato dall'Associazione Ickis, Luca e Angela tornano infatti in Norvegia, a Trondheim, dove l'Associazione Itat, italiani a Trondheim, in collaborazione con il Comaiz Oslo, ha organizzato questo evento per la comunità italiana e non solo. Mamma e figlio si esibiranno il 9 dicembre alle ore 19 sul palco del locale Lager 11 con la formula bilingue italiano-inglese rivolta ad una platea internazionale per adulti e bambini, dove racconteranno questo patrimonio immateriale della nostra cultura che ci rende unici e imbattibili in tutto il pianeta, la gestualità italiana. All'interno dello show parleranno della connessione tra comunicazione non verbale e le nostre emozioni e per questo non poteva mancare la mamma naturale dell'artista che lui stesso definisce la sua guru emotiva. Angela Gabriele non è un'attrice di professione, ma una cuoca straordinaria che interpretra sul palco il ruolo di se stessa. Una mamma calabrese che ama profondamente suo figlio e lo segue in tutte le sue folli avventure, aiutandolo come può. In effetti, insieme hanno superato momenti di grandi difficoltà economiche ed emotive, facendo squadra e costruendo insieme alla figlia sorella Liana una vera e propria azienda di famiglia made in Italy che ha permesso il riscatto di ognuno di loro. Uno spettacolo divertente e profondo che fa ragionare su tanti temi e porta con sé valori importanti come la famiglia, l'amore e la motivazione della vita che unita alla forte determinazione nonostante le avversità possono far vivere i propri sogni. Io e mamma Angela siamo prontissimi per ripartire in Norvegia. Ritorneremo in questo paese meraviglioso dove siamo già stati con il nostro spettacolo La Voce del Corpo sulla gestualità italiana e ci hanno richiamato questa volta a Trondheim dove porteremo il nostro show dove si parla di comunicazione non verbale, emozioni e intelligenza emotiva e lei non poteva mancare perché la mia guru di intelligenza emotiva è un progetto che abbiamo portato anche in Vietnam, in Malesia, in Thailandia ospiti delle ambasciate dei consolati italiani e stavolta saremo ospiti del Comites di Oslo e di ITAT l'associazione italiana a Trondheim per cui non vediamo l'ora di ripartire siamo contentissimi e sentire questo interesse per la nostra cultura per questo aspetto della nostra cultura non può che farci piacere e soprattutto sapere quello che poi l'effetto che fa mamma ogni volta sul palcoscenico è quello che mi emoziona e che non vedo l'ora di rivivere quando tutti la vogliono abbracciare sotto al palco è qualcosa di straordinario quindi incontri culturali, la diversità come ricchezza la nostra origine da non dimenticare e soprattutto la gestualità da vedere come patrimonio culturale del nostro paese immateriale ma culturale e non come estereotipo negativo del quale vergognarci grazie 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 grazie